20 anni di educazione al debito responsabile e di prevenzione all'usura, 20 anni di San Bernardino, un presidio di legalità. La Fondazione Antiusura delle Diocesi Lomparde compie infatti quest'anno 20 anni, essendo nata il 25 giugno 2004, un anniversario importante sottolineato dal convegno svoltosi presso l'Università Cattolica, con la presenza di più e qualificate voci, tra cui l'arcivescovo. Ed è proprio lui, dopo tante testimonianze e interventi, a ricordare la necessità di uscire da una zona grigia e l'importanza del ruolo della legalità, proprio per sconfiggere fenomeni come l'indebitamento, ma anche il dilagante gioco d'azzardo. Lei ha lanciato anche un appello, si può fare qualcosa, aumentando la legalità. La Fondazione San Bernardino, per cui celebriamo i 20 anni di Costituzione, è questo segno interessante che ha saputo accompagnare persone, prendere sopra di sé delle responsabilità, che si avvale di una straordinaria rete di collaboratori, di volontari e quindi questo è qualcosa che abbiamo fatto, di cui dobbiamo essere grati e fieri. La Fondazione San Bernardino non ha il compito di riformare il sistema, quindi è una voce che deve essere sufficientemente limpida, critica e perentoria per contribuire a una collaborazione, una visione più comprensiva di tanti fattori, di tante alleanze, perché il bisogno delle persone deve essere interpretato, non soltanto soddisfatto, perché ciò che serve per le cose veramente necessarie deve essere trovato da una comunità che si cura di tutti e soprattutto dei più deboli. Ecco, quindi c'è un messaggio che mi pare questo convegno invita a raccogliere. Dall'atto della Costituzione, sino al 2023, la Fondazione San Bernardino ha ascoltato, orientato e consigliato 4.773 persone con problemi finanziari di sovraindebitamento e ha disposto interventi di garanzia e derogazione diretta per 479 beneficiari, destinando nell'insieme 5.803.000 euro. Le risorse ottenute, per un totale di quasi 6,1 milioni di euro, sono derivate per il 51% dal Ministero delle Finanze, sulla base delle leggi di settore, per il 49% da fondi dell'8x1000 veicolati dalle diocesi lombarde. Il principale strumento di intervento è costituito oggi dalle garanzie che Fondazione San Bernardino offre agli istituti bancari, Banca di Credito Cooperativo, Banca Mediolanum e Banca Intesa, con il quale si concludono convenzioni per le persone che hanno bisogno di ripianare pesanti debiti. 20 anni di San Bernardino, una fondazione importante che oltretutto vede la collaborazione, vede riuniti tutti i vescovi lombardi. Sì, è stata voluta dalle 10 diocesi lombarde che hanno risposto, hanno condiviso una preoccupazione del Cardinale Tettamanzi nel 2004 e che rispondeva anche a una lettura che i centri d'ascolto iniziavano a fare, cioè incontravano persone che si impoverivano perché indebitate, perché facevano il passo più lungo della gamba, uscivano dal circuito del credito e i centri d'ascolto non avevano gli strumenti tecnici, diciamo così, le competenze per aiutarli e quindi ci siamo dotati di una fondazione regionale, appunto i 10 vescovi nominano i consigli di amministrazione ma soprattutto mettono a disposizione i centri d'ascolto delle diocesi e anche un sostegno economico con l'otto per mille. Ed è stata Elena Beccalli, preside della Facoltà di Scienze Bancarie e Finanziarie Assicurative dell'Ateneo, a evidenziare come l'indebitamento sia trend difficile da intercettare, ma anche che esistono alcuni indicatori, spesso purtroppo ignorati, che consentono di definire la rilevanza del fenomeno. Il ruolo del credito sociale è fondamentale in questo contesto di lotta all'usura? È fondamentale perché anche gli ultimi dati ce lo confermano, siamo di fronte a una situazione nel nostro paese di sempre maggiore polarizzazione, con disuguaglianze nella distribuzione del reddito che crescono e che portano l'Italia a essere sempre più vicina purtroppo al dato medioeuropeo. E in un contesto di famiglie meno abbienti sempre più penalizzate, il rischio di sovraindebitamento, il rischio di usura aumenta. Di qui la necessità del credito sociale, un credito di natura diversa rispetto al credito ordinario, quindi servono nuovi schemi, nuovi modelli, perché non necessariamente il credito ordinario è la ricetta buona per affrontare il problema del sovraindebitamento e dell'usura. Ecco allora che diventa essenziale la relazione con la persona, la valorizzazione della comunità e la condivisione di principi etici e valoriali che rendono possibile una forma di credito sociale appunto che affronta il problema partendo dalla persona. La situazione attuale italiana è una situazione complessa dal punto di vista economico e questo si riflette poi anche sul punto di vista giuridico. Quando abbiamo fondato l'osservatorio ormai qualche anno fa abbiamo voluto proprio fare dell'Università Cattolica un luogo dove si potesse affrontare in un modo interdisciplinare e in dialogo anche con attori esterni del campo economico giuridico, affrontare le tematiche con una prospettiva lungimirante e di visione larga e alcuni risultati anche in collaborazione proprio con la consulta e con la fondazione San Bernardino li abbiamo ottenuti sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista della presentazione dei rapporti il lavoro è lungo da fare perché si tratta di individuare quali possono essere soluzioni compatibili per tutti gli attori di questi ambiti e di queste tematiche e che possano mitigare l'impatto veramente negativo e importante dell'attuale situazione economica per tante famiglie e per tanti consumatori. Grazie